Avvio del cantiere sulla palazzina che dopo i lavori di restauro e rifunzionalizzazione ospiterà la casa della cittadinanza. Siamo nella ex caserma Rossani, questa mattina il sopralluogo del sindaco Antonio De Caro in quello che diventerà un domani il luogo delle associazioni. Abbiamo iniziato la riqualificazione di quest'area con l'assessore Galasso e la completiamo con l'assessore Mele, perché con l'assessore Galasso abbiamo iniziato il restauro dell'Urban Center, che è stato il primo edificio che abbiamo restaurato e riaperto e adesso cominciamo i lavori all'interno della nuova struttura che sarà destinata alla cittadinanza. Sarà la casa della cittadinanza, la casa delle associazioni con laboratori, spazi per i cittadini, per fare attività di formazione, attività di socializzazione. L'avevamo promesso dall'inizio, adesso abbiamo recuperato le somme, sono 5 milioni e 400 mila euro di fondi del PNRR. Si completa così questo parco della cultura con i due edifici che la regione sta per riaprire, che sono destinati alla biblioteca regionale e alla mediateca regionale. Prima uscita pubblica inoltre per il nuovo assessore ai lavori pubblici del comune di Bari, Nicola Mele. Io sono stato molto onorato della fiducia che il sindaco ha voluto riporre in me. È un incarico a tempo, però sicuramente è un'opportunità importante di mettermi a disposizione della città e dei cittadini.